Speriamo solo che l'agenda di Tusk non si riveli una missione impossibile. Diamo uno sguardo a cosa succede in questa trentasettesima settimana. Lunedì, il responsabile per il commercio negli Stati Uniti, Robert Leicester, verrà a Bruxelles per incontrare Cecilia Malmström, commissaria europea per il commercio. Mertedì, il premier greco Alexis Tsipras parlerà davanti al Parlamento UE a Strasburgo della sua visione sul futuro dell'Europa. Mercoledì tutti gli occhi saranno puntati sul Parlamento quando il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, pronuncerà il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione. L'ultimo andrà in pensione dopo le elezioni europee del prossimo anno. Juncker probabilmente affronterà le grandi sfide dell'Europa alla sicurezza interna e esterna. Anch'io voglio parlare di sicurezza. In realtà, sicurezza aeroportuale. Conoscete questi contenitori di sicurezza. Ci mettete i computer, le scarpe e altri oggetti per essere controllati. Ora gli scienziati inglesi e finlandesi hanno scoperto che questi strumenti contengono una grande varietà di germi, come quello responsabile del raffreddore e del virus dell'influenza A. Questi fassoi sarebbero peggiori dei bagni dell'aeroporto, hanno detto i ricercatori. La raccomandazione? Lavarsi le mani ogni volta che si può. È tutto per oggi, sono Stefan Grob, seguitemi su Twitter. Grazie per averci seguito, buona settimana. Grazie. Grazie.